Recensione Asus ROG Flow X13, uno dei portatili probabilmente più antipatici al mondo da recensire perché è un po' come se Asus, AMD e Nvidia si fossero messe tutte insieme per fare una sorta di figlio illegittimo e come dire, si sente una certa pressione nel provare una macchina del genere che è veramente molto particolare infatti spero di riuscire a condensare bene in questo video senza dilungarmi troppo quelli che sono i suoi punti chiave a maggior ragione vi ricordo subito che c'è una recensione pubblicata su smartworld.it con tutti quei dettagli spero che non riuscirò ad elencare appunto in questo filmato che comunque, se dovesse piacervi, un bel like è sempre gradito ed è il modo più semplice per supportarci. Adesso, chi chiamiamo alla lavagna per primo? Partiamo da Asus 13,4 pollici, ruotante a 360 gradi, basta dargli qualche colpetto in più e vedete che lo schermo si piega stylus incluso in confezione, lega di magnesio bene o male un po' ovunque, leggera ma robusta ed un design ispirato in parte ad altri modelli ROG, in particolare il G14, ma comunque così sobrio che se non vi dicessero che questo è un ROG potrebbe passare tranquillamente per un portatele business anche perché vedete che è piuttosto sottile e che al di là di qualche ricercatezza estetica sulla back cover non è che abbia particolari segni di distinzione o soprattutto elementi visivi che spicchino rispetto al resto della scocca magari tipici dei portateli gaming che vogliono farsi notare. Lui vuole passare appunto giustamente per un ultrabook qualsiasi per certi versi ma ovviamente non lo è. Parliamo subito delle porte di comunicazione, allora qua sul fianco sinistro avete il connettore per la XG Mobile che è la GPU esterna dedicata a questo portatile che funziona al momento esclusivamente con lui, c'è una protezione in plastica che perdrete facilmente e che io infatti in questo momento non so dove sia a proteggere appunto questa porta che è data anche da una USB-C che quindi può far comodo per collegare anche altri tipi di dispositivi. Abbiamo poi una full HDMI, jack audio mentre dall'altro lato un altro USB-C, USB-A e il tasto di accensione che fa anche dal lettore di impronte digitali. Funziona tendenzialmente bene ma la posizione qua sul fianco a volte mi ha un po' penalizzato quando per esempio andavo a collegare un HDMI o il jack audio mi veniva da tenere il portatile fermo dall'altra parte e inavvertitamente premio il tasto di accensione mandandolo quindi in stop. Vabbè piccoli dettagli. Tastiera full size è la versione italiana ma c'è questa U accentata sopra il tasto invio che a me dà sempre un po' fastidio, c'è la retroilluminazione aura ma non è multicolore bensì monocromatica, altro elemento come dire non eccessivamente rogue che quindi va a collocare questo portatile in una sfera che è appunto quella anche del business non per forza del gaming. Sotto abbiamo il touchpad abbastanza piccolino in realtà un pochino traballante non è di quelli granitici quando andrete a prenderlo sentirete subito che c'è un pochino di gioco. Questa cosa a me non piace tantissimo in linea di massima comunque funziona bene compatibile ovviamente con le gesture di precisione di windows nulla di particolarmente troppo critico in generale sui due dispositivi di input nessun dei due brilla particolarmente non è il portatile che vi raccomanderei sul quale scrivere il vostro romanzo ma non ha nemmeno delle enormi criticità. Per un portatile gaming va bene così c'è ovviamente la possibilità di personalizzare l'aura sync magari non nel colore però nel tipo di vibrazione della luminosità che può essere appunto fissa può essere strobing ovvero alternata oppure può essere breathing con questo respiro appunto che va e viene. Tasti dedicati al controllo del volume del microfono e il tasto ROG per richiamare poi l'applicazione Armory Crate che gestisce veramente tutto di questo dispositivo sono collocati qua in alto pagina su pagina giù inizio e fine assieme alle frecce direzionali e questa a me è una cosa che piace sempre. Manca il tasto stamp ma a parte quello non c'è veramente null'altro da dire su questa tastiera che è sufficientemente rigida e anche con un discreto feedback che la rende tutto sommato piacevole anche nell'utilizzo non ludico. Il pannello vi ho già detto che è un 13,4 pollici 4k 60 hertz c'è anche una versione full hd a 120 hertz decisamente più indicata per il gaming e per avere un pochino più di autonomia perché comunque il pannello 4k se la mangia. Onestamente su un 13,4 pollici 4k secondo me non hanno mai esageratamente troppo senso tanto più su un modello del genere che ha un'autonomia appunto un po' altalenante come vedremo a breve tra l'altro la luminosità comunque anche di questo pannello 4k non è eccessiva sono 300 nit esattamente come quello in full hd che sono un po il minimo sindacale ormai in presenza di una forte luce essendo lucida la finitura touch avrete dei problemi di visibilità è innegabile questo la calibrazione di fabbrica anche lì me l'aspettavo migliore c'è comunque un utility all'interno di armory crate per andare a calibrare il display e comunque per regolare la modalità di visualizzazione a seconda delle esigenze fps cinema racing insomma un pochino quello che potreste desiderare fatto sta che se doveva essere questo il pannello per content creator mentre quello per full hd più orientato al gaming sul content creator qualcosina un po' manca mi orienterei decisamente di più su quello full hd pur non avendolo provato e non potendo vi dare delle impressioni in prima persona ma iniziamo un po' a parlare di quello che c'è dentro questo portatile perché è sull'hardware che il discorso si fa complesso allora processore amd ryzen 9 5980 hs accompagnato da 32 gigabyte dlp ddr 4x un terabyte di storage pc express 3.0 e una geforce gtx 1650 max q sono specifiche indubbiamente di fascia elevata più sul fronte processore ovviamente che sul fronte grafico perché la 1650 vi permette sì di giocare in full hd magari anche un po' in 2k ma con un certo compromesso sui dettagli grafici ma parleremo dopo del lato ludico andiamo un attimino a scomodare amd allora amd qui con i ryzen 5000 ha fatto una bella scommessa e devo dire che da quello che ho visto almeno su questo asus la scommessa è ampiamente vinta perché perché sul multi core questo processore non ha praticamente rivali è una spanna avanti un po' tutto quello che potreste trovare su un notebook oggigiorno tanto da rivaleggiare con soluzioni desktop ben più elaborate nel single core amd ancora un po' accusa il colpo nel senso che comunque siamo su buoni valori ma non certi inarrivabili tiger lake anche serie u con un tdp decisamente inferiore a questo li raggiungono senza troppi problemi ma appunto è sul multi core che si vede la differenza e lo si vede anche nel fatto per esempio che ci vuole veramente tanto per impegnarlo davvero questo processore in un rendering su premiere starete intorno ai 3,6 3,7 gHz ma vedete con un carico che comunque sul processore è sempre piuttosto light thermal throttling completamente assente temperature ma le sarei aspettate un pochino più basse sinceramente ma non sono comunque a livello critico è un sistema che bene o male è a suo agio anche con un compito che è mediamente pesante e per andare a cercare di metterlo in crisi come spesso faccio ho utilizzato aida 64 che va a caricare al 100% ogni componente del sistema guardate tutti i 16 thread della cpu al 100% ma anche il carico qui addirittura segnato in rosso sulla memoria fisica del 96,5% è uno stress completo eppure nonostante qui sia in esecuzione ormai da più di un'ora aida 64 vedete che il clock va di media sui 3,4 gHz superiore al base clock segno di un sistema che non è comunque mai in throttling nemmeno quando è completamente sotto carico e che riesce a reggerlo tranquillamente senza crash e con delle prestazioni che appunto sono di fascia elevatissima perché il processore non va mai in throttling nemmeno con tutti e 16 thread occupati diamo a cesare quel che è di cesare ovvero ad asus e amd grande lavoro da parte di entrambe da parte di amd nel realizzare un processore del genere da parte di asus nel riuscire a contenerlo così bene anche in una situazione di stress appunto estremo bene o male come quella rappresentata da aida con temperature che avete visto sono praticamente le stesse che avevamo quando eravamo su premiere quindi assolutamente non critiche sotto i 90 gradi benissimo da entrambe anche perché la rumorosità del sistema di raffreddamento non è enorme nella modalità turbo che è quella appunto che spinge di più disponibile sempre come vi dicevo sul software di asus siamo intorno ai 45 decibel ma è possibile andare a selezionare anche un'ulteriore modalità manuale per spingere ulteriormente le performance di cpu e gpu con anche conseguente aumento della rumorosità delle ventole è una cosa come dire da fare proprio se avete voglia o esigenze mi verrebbe quasi da dire di mining perché comunque già con le prestazioni massime si raggiungono delle performance che penso bastino per chiunque per qualunque cosa possiate fare su un notebook del genere tanto più se pensate che questo non è nemmeno il massimo che il rog flow x13 è in grado di fare perché poi subrentra la xg mobile ovvero la gpu esterna a lui dedicata la connettete appunto tramite questo connettore dedicato perché non soltanto una semplice thunderbolt semplicemente per un fattore di banda più banda avete e meglio è perché comunque le classiche gpu esterne collegate solo tramite thunderbolt soffrono un calo di performance rispetto a quella che è la gpu inserita al loro interno perché non c'è abbastanza banda in questo cavo e intendiamoci lo soffre in un certo senso anche l'x13 ma ci sono dei modi per ovviare prima di andare a collegarla però parliamo un attimino di questo xg mobile perché è davvero notevole in un chilogrammo di peso c'è non solo una rtx 3080 ma c'è anche un alimentatore da 280 watt e quindi vi rende in grado di collegare un solo cavo e avere alimentato tutto quanto senza bisogno di ulteriori cavi aggiuntivi chiariamo che questo cavo qui serve sì per passare i dati alla scheda e per alimentare il notebook ma non serve al notebook per alimentare la rtx 3080 cioè se non è collegata all'alimentazione l'xg mobile non funziona questo significa anche che se doveste staccare la corrente mentre la state utilizzando sarà come staccare a caldo la scheda video che non è una bella cosa da farsi c'è uno stand lo avete intravisto prima qua in basso che vi permette di tenere in una posizione inclinata il vostro modulo per la gpu ci sono un sacco di porti in più c'è una sd full size 4 usb a hdmi 2.0 a display port 1.4 ethernet è anche un hub è è notevole una cosa del genere perché fino a ora le gpu esterne erano molto grandi questa invece bene o male è portatile se andate ad aggiungere il suo chilo agli 1 350 del notebook siete comunque sotto i due chili e mezzo che è più o meno il peso di tanti 15 pollici se andate a considerare l'alimentatore e a proposito dell'alimentatore canonico per l'x13 beh è questo qua piccolo quadrato 100 watt usb c è il massimo che si possa raggiungere su usb c se il sistema è a pieno carico basta ma la pena tenerlo alimentato però fatto sta che comunque sia avrete il vantaggio di avere un alimentatore tutto sommato trasportabile quando avete bisogno del solo portatile se invece vi avvaleste della scheda video esterna non c'è bisogno ovviamente di nessun alimentatore perché ci pensa lei colleghiamo quindi il nostro cavo che ha anche uno switch sopra di sicurezza che dovete andare a premere per far sì che il collegamento sia effettivo e a quel punto su desktop comparirà una finestrella che vi inviterà a fare lo switch dovete attendere qualche momento che la barra di progresso si completi per avere la piena potenza della vostra rtx 3080 anche sul rock flow a questo punto che cosa succede succede che la gtx 1650 che qua dentro è come se non ci fosse e l'unica scheda grafica discreta che andrete ad utilizzare quella all'interno dell'xg mobile questo che cosa significa significa che se prima con la gtx 1650 vi dicevo che potevate giocare diciamo al massimo in 2k con un po di compromessi grafici una volta collegata la rtx 3080 si passa al gaming in 4k quasi del tutto senza compromessi anche a titoli tipo cyberpunk o red dead redemption ma in realtà c'è comunque un'ulteriore differenza da fare perché perché comunque sia c'è una certa penalità nell'utilizzare l'output video dello schermo dell'x13 perché comunque andate a succhiare una parte della banda disponibile perché ci sarà un ritorno per il video del vostro portatile diverso è il discorso se andaste ad utilizzare la porta hdmi o displayport dell'xg mobile per collegare un display esterno la penalità che c'è in questo caso è di circa il 10 per cento più o meno di prestazioni dipende un po dall'utilizzo e sia chiaro che con le gpu esterne tradizionali quelle che magari utilizzano soltanto una porta thunderbolt questa penalità è ancora maggiore però c'è comunque anche con questa soluzione di asus ho fatto vari test sia di stampo ludico che non ludico per esempio state guardando in questo momento quelli di pc mark e come vedete questo valore di 8008 è stato raggiunto con la xg mobile collegata ed utilizzando lo schermo del flow x13 e già qua vedete la differenza con gli altri valori che invece si ottenevano con la 1650 e tenete conto che questo è un test bene o male onnicomprensivo che quindi non riguarda soltanto la grafica ma un po l'utilizzo a 360 gradi tutto il notebook ma poi se andiamo ad utilizzare un display esterno da 8008 passiamo a 9007 questo incrementa praticamente tutto sul fronte della gpu che riesce a performare meglio non solo nei giochi ma anche per esempio nella content creation se avete bisogno di utilizzare applicazioni che sfruttino intensamente la vostra gpu e se andiamo a sfruttare dei benchmark più dedicati proprio all'aspetto ludico la differenza qui diventa ancora più evidente è una cosa che è difficile quantificare in maniera precisa perché può un po variare a seconda del tipo di utilizzo comunque diciamo che un 5 10 per cento di performance in più le tirerete fuori andando a sfruttare uno schermo esterno rispetto a quello del portatile stesso performance che a questo punto sono praticamente di stampo desktop perché siamo su valori veramente elevati e paragonabili a quelli di soluzioni analoghe appunto ma con sistemi desktop e non con un sistema che comunque in un certo senso è ancora mobile in un certo senso perché comunque siete vincolati ad un cavo e ad una alimentazione quindi è mobile per modo di dire ma che comunque è un vero e proprio desktop replacement ora io ho lasciato che le immagini parlassero al posto mio avete visto un cyberpunk 2077 girare in 4k a dettagli massimi con ray tracing massimo oltre i 30 fps quindi beh vi sfido a farlo con la maggior parte dei portatili gaming questo ma lo stesso discorso poi può valere per altri giochi appunto prima avevo citato red dead redemption 2 overwatch ovviamente non è una sfida per un sistema del genere ma è anche bello vedere a dettagli ultra in 4k eccetera eccetera quanti fps riesca comunque a tirare fuori un sistema del genere e in generale l'elenco ovviamente potrebbe continuare certo ci sono un po di compromessi per raggiungere performance del genere cioè è difficile riassumere in una volta sola le prestazioni di questo notebook perché è come se ci fossero due tre anche quattro anime in lui un conto è quando lo utilizzate singolo un conto è quando lo utilizzate singolo ma per esempio in modalità tenda perché perché in questo modo il flusso d'aria che c'è qua sotto è molto maggiore rispetto a quando è appoggiato su un piano e c'è una differenza di performance l'ho vista anche facendo qualche benchmark quindi se aveste per esempio un mouse e tastiera bluetooth o un gamepad riuscirete a spremere meglio la gtx 1650 in questa maniera e qui il fatto che sia un convertibile acquista ulteriore senso e poi c'è l'xg mobile che a sua volta esibisce performance in un modo se utilizzata sullo schermo del flow x13 e in un altro se utilizzata su uno schermo esterno quindi capite bene che è un sistema estremamente scalabile che per carità è un suo vantaggio voi magari lasciate l'xg mobile in ufficio dove volete il massimo delle performance e poi quando ve ne andate avete comunque un portatile in grado di assistervi nella stragrande maggioranza dei compiti che potreste desiderare con un processore che ribadisco è veramente al top in termini di velocità rispetto a tutti quelli disponibili oggi sul mercato e che viene sfruttato benissimo anche soltanto dal portatile in sé tra l'altro quando andate ad utilizzare l'xg mobile tutto il sistema di raffreddamento dell'x13 è interamente dedicato al processore di amd che quindi ne guadagna ulteriormente a sua volta in performance ora tutta questa scalabilità anche i suoi svantaggi ovviamente non parlo solo dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista hardware nel senso che per esempio lo switch tra gtx 1650 e scheda video integrata perché comunque c'è sul processore di amd secondo me non è sempre impeccabile prima vi avevo fatto intravedere i punteggi di pc mark 10 e non so se avete fatto caso ai valori di autonomia per esempio andando a vedere il valore di modern office che è il test diciamo più canonico quello del classico lavoro da ufficio vedete che passiamo da sei ore e mezzo sette ore otto ore e ventotto tutte in teoria effettuate nelle stesse condizioni eppure con valori così diversi perché da quello che ho visto secondo me a volte c'è qualche difficoltà nello switch tra appunto gtx e scheda integrata non sempre la gtx viene staccata a dovere quando non servirebbe quindi c'è un consumo maggiore diciamo che in linea di massima le schede nvidia mi sembra che vadano sempre più d'accordo con i processori intel anche probabilmente per un discorso se vogliamo di abitudine c'è una funzione apposita di armory crate per andare a gestire questo discorso dello switch tra una e l'altra se lasciata su automatico non mi sembra ecco che funzioni sempre a dovere è più una cosa che dovreste fare allora voi manualmente andando ad attivarla o disattivarla e che può essere un pochino fastidioso certo è che comunque nella versione 4k non vi aspettate di poterci lavorare tanto più a lungo di 5 6 ore ma proprio ad esagerare con in più questo fattore un po dell'impredicibilità come vi dicevo prima probabilmente il pannello full hd è preferibile per tutta una serie di ragioni sia ludiche che non ludiche non da ultimo appunto anche il discorso dell'autonomia e anche la xg mobile ogni tanto qualche piccolo problemino me l'ha dato overwatch qualche crash soprattutto all'inizio lo ha fatto registrare perché il sistema diceva che la gpu era stata overclockata quando invece non avevo comunque utilizzato nulla del genere e non la riconosceva del tutto insomma sembrava che ci fosse qualche problema proprio nell'utilizzo della gpu esterna l'ho risolto poi andando un po a smanettare nelle impostazioni di overwatch stesso e non escludo che la stessa cosa possa succedere anche con altri giochi del resto è un sistema unico che non ha termini di paragone e quindi non vi posso garantire una compatibilità completa al cento per cento in linea di massima comunque tutti questi problemi sono probabilmente aggiustabili via software e non dubito che asus amd invidia lavoreranno per garantire il piano supporto software a tutti i loro prodotti anche perché sono prodotti di punta per tutte e tre le aziende quindi ciascuna di loro ci tiene a dare il meglio di sé in quelli che poi sono appunto i loro dispositivi più performanti ovviamente il prezzo è abbastanza stellare sono 3599 euro per tutto il packaging completo vi arriva tra l'altro in questa grandissima scatola con altre scatole al suo interno e con altri accessori devo dire caso se sempre brava nel farvi percepire di aver preso un prodotto premium sembra una banalità ma per esempio un fold 2 aveva una confezione molto più banale di questo e già che ho citato il fold 2 è qui un po il problema nel giudizio finale su un prodotto del genere cioè che ci sono portatili e senz'altro più leggeri di questo perché non hanno il vincolo delle performance ci sono portatili gaming più performanti di questo perché non hanno il vincolo della leggerezza della convertibilità e bene o male del design ci sono soluzioni desktop più performanti di questa ma nessuna di queste vi permette poi di staccarlo e di avere un vero e proprio portatile quindi i paragoni con il resto si fanno male ed è anche scorretto dire che un dispositivo ibrido non sia eccellente perché è la natura stessa dei dispositivi ibridi uno smartphone che diventa tablet sarà sempre una cosa un po a metà tra uno smartphone e un tablet un notebook che sia leggero performante che diventi bene o male anche un desktop avrà molti più vincoli da soddisfare ed è anche questo il punto ed è anche questo il bello di un prodotto del genere cioè che va incontro ad esigenze di chi voglia un po tutto il pacchetto completo il solo x13 costa 1899 euro è già un prezzo più equo se vogliamo è paragonabile per esempio non lo so prima pensavo a lenovo l'x1 il nuovo x1 di nona generazione se non sbaglio ha specifiche bene o male paragonabile a questo la stessa gtx 16 50 quindi lo potete vedere anche semplicemente come un portatile business ma non è quello secondo me il suo vero fulcro per certi versi è brutto acquistare solo l'x13 senza avere la bellezza anche della xg mobile che ovviamente fa schizzare il prezzo alle stelle ma che ovviamente vi dà qualcosa che nessun altro dispositivo sul mercato è al momento in grado di darvi e che fa magari intravedere un futuro in cui soluzioni ibride come questa diventeranno più abbordabili dal punto di vista di prezzo ancora più performanti risolvendo magari quei colli di bottiglia delle quali abbiamo parlato e nei quali i notebook diventeranno ancora più facilmente dei desktop grazie a delle gpu esterna come questa che anche lei è unica sul mercato in termini di dimensioni e in termini anche di portabilità perché in caso di esigenze ve la potete davvero mettere in uno zaino senza troppi problemi è stato un piacere provarlo spero di essere stato abbastanza esaustivo ma anche abbastanza sintetico da non avervi annoiato vi ricordo della recensione completa che ho pubblicato su smartworld.it e vi ricordo che se il video vi fosse piaciuto un bel like mi farebbe davvero tanto piacere ma voglio comunque sapere che cosa ne pensate di prodotti del genere qua sotto nello spazio dei commenti da parte mia come sempre un saluto e alla prossima ciao 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 ciao